Si va avanti con il discorso della microzonazione nella zona rossa del terremoto il 21 agosto del 2017, un altro incontro con i tecnici. Sindaco Pascale, che cosa avete aggiunto rispetto alla prima volta che vi siete incontrati? Abbiamo finalmente affrontato concretamente il percorso che ci aspetta e quindi era un incontro prettamente tecnico dove i comuni nomineranno i responsabili del procedimento, i quali provvederanno con un disciplinare di incarico a incaricare i tecnici per la microzonazione sismica di concerto con la struttura commissariale presieduta dal dottor Schilardi e dal CNR in contatto con Roma, i quali sono già in possesso di uno studio di massima. Quindi si procede nella direzione che ci siamo dati. Nello stesso tempo si incomincia a organizzare un tavolo concreto col Ministero dell'Istruzione, con la città metropolitana, con i comuni e con la struttura commissariale per quanto riguarda l'aspetto scuola e quindi partire dagli studi di vulnerabilità sismica per passare poi alla progettazione e alla materiale esecuzione degli interventi necessari a rimettere in sesto le scuole. Questo è fondamentale anche perché, come si intuisce, è un percorso più snello avendo disponibilità delle risorse e avendo soprattutto un solo interlocutore. È chiaro che va fatto d'intesa col MIUR e con la città metropolitana per gli istituti superiori. Quindi non solo in prospettiva la possibilità di rimettere in piedi le scuole ammalorate dal sisma direttamente, ma anche poi nella fase successiva valutare anche la messa in sicurezza di tutti gli altri istituti, anche se non sono stati colpiti dal sisma. C'è stata sempre grossa attenzione da parte del governo per la scuola e quindi si va nella giusta direzione che anche noi dopo il sisma abbiamo inteso affrontare subito la problematica che potesse alleviare i problemi ai più piccoli che hanno maggiormente sofferto dal terremoto. Quali sono, sindaco, i prossimi appuntamenti intanto? Il prossimo appuntamento è con la struttura commissariale, con il dottore Schilardi, il 21, la prossima settimana, in modo che i tecnici, gli imprenditori, i cittadini colpiti direttamente dal sisma potranno interloquire presso la sala consigliare di Lacquameno direttamente col commissario per essere operativi in relazione all'ordinanza numero 2 da lui emessa per quanto riguarda i danni lievi o cosiddetti lievi entità. Quindi praticamente i tecnici innanzitutto potranno capire concretamente quali sono gli atti da mettere in campo per procedere in questa direzione secondo le prescrizioni di questa ordinanza.